Parliamo con i tecnici e oggi è lunedì riprende la settimana di Canale 2C dopo il TG e quindi ci dobbiamo un po' coordinare. Ben ritrovati, un saluto al pubblico che ci segue fedelmente tutti i giorni, un saluto al pubblico femminile anche perché sappiamo che è abbastanza numeroso. Allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito nel tema, o meglio nei temi che discuteremo nella puntata odierna con l'ospite che abbiamo in studio, fresca di nomina, sindaca di Altamura, Rosa Melodia che siamo riusciti, da un po' di giorni che l'hanno tenuta, impegnata in tutte le problematiche della città, siamo riusciti finalmente ad averla qui a Canale 2C. Intanto nuovamente auguri per questa elezione che riproietta Altamura all'interno della Puglia fra le città che sceglie un sindaco. Donna e per di più, l'abbiamo già discusso anche nelle trasmissioni politiche durante le giornate dell'elezione, una carica che ritorna al centro-sinistra dopo 17 anni, quindi una città che adesso per quella che è stata la vostra campagna elettorale dovrebbe essere un po' rivoltata come un calzino, l'abbiamo sentito anche nei comizi e vanno un po' anche risistemati questi calzini perché c'è qualcosa, o meglio, tanto da mettere a posto. Intanto benvenuta nei nostri studi, la vediamo molto stanca, è un po' pesante far sì. Fammi salutare innanzitutto e ringraziarvi per l'invito, saluto le telespettatrici e i telespettatori, le mie concittadine e i miei concittadini che ringrazio perché ancora non ho fatto un comizio di ringraziamento per una serie di coincidenze che non vi sto qui a raccontare, ma presto faremo anche questo comizio. Sono stanca perché vengo da 70 giorni di campagna elettorale e subito sono entrata nel vivo della mia nuova attività nella veste di sindaca, ritenendo che il 29 aprile c'è stata la proclamazione e subito coincide con l'indicazione del mio nome che era il 29 aprile per la campagna elettorale come candidata e questa è stata una campagna elettorale all'insegna delle date che per me hanno rappresentato tanto, mi dicevano tanto sin dall'inizio e non mi hanno tradita, come non mi hanno tradita gli altamurani e gli altamurani che mi hanno dato una fiducia importante, un rapporto di stima che io apprezzo molto e che non intendo tradire, per cui cercherò davvero di fare qualcosa per questa città come già ho detto e come sono intenzionata a fare senza dubbio. Allora sindaca, appena entrata nella stanza dei bottoni, chiamiamola così virtualmente, ha avuto un problema, una patata bollente, l'è subito piombata addosso questa situazione dei rifiuti, chiamiamola emergenza, rifiuti vogliamo chiamarla un po' situazione caotica, fatto sta che i cittadini a macchia di leopardo esprimono pareri diversi sul nuovo sistema di raccolta che è cominciato, ci sono quartieri, cittadini dove tutto funziona, dove nessuno si lamenta, ma ci sono zone della città dove le problematiche si toccano con mano. Cosa vogliamo dire a quei cittadini che si lamentano? Hanno ragione di lamentarsi, come ho ragione di lamentarmi anch'io sotto un certo punto di vista, perché al mio insediamento avrei dovuto trovare una situazione un po' più assestata. Come le cittadine e i cittadini sanno, questo nuovo servizio di raccolta non è più un rapporto a due, è un rapporto più ampio, più articolato, perché così hanno previsto la legge regionale, perché ci sono più attori, ce ne sono cinque, c'è l'Aro, c'è l'ambito ottimale della raccolta sostanzialmente che comprende sette comuni, tutto il percorso dell'appalto è stato svolto a Roma dalla Consip a nome di questi comuni e c'è l'Unicam che è l'Unione dei Comuni dell'Altamurgia di cui Altamurgia non fa parte. I precedenti governi hanno sempre snobbato un po' questa situazione, dobbiamo dirlo tra le righe. Lo diciamo tra le righe, devo essere sincera, in questo periodo è già il periodo festivo per cui ci sono molti che stanno fuori e quindi anche alcuni dirigenti sono in ferie, per non ho avuto modo di capire se effettivamente stare fuori dall'Unicam ha un significato politico importante oppure se è necessario entrare in questo raggruppamento, perché nella realtà l'Unione dei Comuni dovrebbe funzionare non solo per la raccolta dei rifiuti ma anche per altre cose, perché ormai i Comuni devono muoversi in sintonia e insieme, perché questa è una nuova visione data, ripeto, dalle norme generali e diciamo ci sono, dicevo, altre figure che sono quelle del RUP, del Responsabile Unico del Procedimento, del DEC, del Comune di Altamura, dell'ASL e di chi esercita appunto questa attività di appaltatore della raccolta dei rifiuti, in questo caso la Tecno Service, che fa parte, una delle tre società che fanno parte di un'associazione temporale di impresa e che hanno partecipato a questo appalto. chiaramente, diciamo, il tutto è stato confezionato a Roma sui dati dei vari comuni, chi ha vinto l'appalto peraltro non è neanche di Altamura, io credo che sia stata sottovalutata Altamura nella diversità di territorio e di esigenze, noi non abbiamo una città eterogenea, tant'è vero che la zona di Trenta Capilli non ha problemi perché ha strade larghe, ha giardini condominali, hanno preso con gioia questo cambiamento e invece è più difficile, anche il centro storico era abituato a fare la raccolta differenziata. E' un po', diciamo, il corpo centrale della città nata attorno al centro storico. Peraltro ci sono anche delle scelte fatte a monte sulla definizione di condominio, io avrei fatto partire, diciamo, in maniera diversa partendo dai condomini minimo nove, perché in quella maniera combaciava anche il dato dei condomini che devono avere per forza l'amministratore e quelli che possono autogestirsi sotto un certo punto di vista. Ma si tratta di costruzioni che non hanno a volte la possibilità di tenere negli androni o in altri spazi questi carrellati, per cui stiamo avendo anche una serie, diciamo, di lamentele da parte degli amministratori, ma anche di semplici proprietari di case dove appunto ci sono tre, quattro famiglie, perché effettivamente ingombrano. Per cui io chiedo di avere pazienza, chiedo di accettare per il momento questa situazione. Gli uffici comunali stanno facendo dei sopralluoghi per decidere se effettivamente è impossibile trattenere questi contenitori grandi, perché poi ci sarebbe un aumento dei costi, perché una cosa è svuotare mastelli piccoli, 40 mastelli piccoli, una cosa è svuotare tre carrellabili, insomma, e quindi c'è un lavoro in più che dovrebbe essere pagato. Però nel frattempo è necessario mantenere un attimo la calma, perché forse non sono stati rispettati proprio in toto tutto il cronoprogramma che era previsto da... Diciamo che da gennaio, che è stato vinto l'appalto, da febbraio è partito, fino a 14 giugno, in tutta onestà, la città è stata poco informata. L'informazione al primo posto, diciamo. Eppure, insomma, abbiamo anche gli organi di informazione in questa città, io adesso non voglio dare colpe a nessuno, però, ecco, per quella che è la forma, ritengo che sia stato commesso un errore in partenza, quello di informare male la città. Senza dubbio, sono assolutamente convinta di questo. Questa è una colpa, diciamo, che diamo alla TecnoService, però io leggendo un po' i numeri, le carte, mi sono, non dico messo le mani nei capelli perché non potrei farlo, ma può un ufficio tecnico del Comune fornire un dato numerico sbagliato sui nuclei familiari della città? Allora, qui si apre un altro dibattito, perché i dati sono stati forniti prima che la Consip facesse l'appalto, parliamo del 2012-2013. Certamente in cinque anni ci sono dei cambiamenti dei nuclei familiari, anche delle attività, perché noi parliamo di utenze domestiche e di utenze non domestiche. Però è anche vero che molto probabilmente sta venendo fuori un po' di sommerso, cioè abitazioni locali che non erano dichiarati ad abitazione, sottotetti, eccetera, eccetera, stanno provocando anche questa diversificazione dei numeri. E' presto per poter dare dei dati reali, perché io so che comunque c'è stata poi un confronto sui numeri dopo, fatto dalla Tecno Service e dagli uffici. Io voglio sperare che non ci sia questo errore così ampio, ripeto, certamente sta avvenendo qualcosa di diverso perché ci sono… Dal suo comunicato sembrano 2003-2004 circa, ma c'è chi parla di 6.000. No, 6.000 è impossibile, non è così. Ho detto c'è chi parla. Sì, 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 no, diciamo che i miei dati forniti attraverso il comunicato stampa nascono dal confronto che io ho avuto con tutte le parti, ho avuto già due tavoli e tanti altri incontri, diciamo, con le parti singolarmente e non. Proprio perché ci sono stati tutta una serie di eventi, anche la chiusura di tre giorni della discarica di Conversano che chiaramente ha bloccato il servizio. Allora, devo dire Altamura non sta subendo un soppruso, questo accade dappertutto. C'è bisogno di circa 8 mesi per assestarsi e nonostante tutto, sia la qualità del rifiuto raccolto, e parlo di umido e di plastica e di ottima qualità, mentre nei primi giorni non era così, adesso invece sta avvenendo… Ma di questo ne siamo convinti, poi la città, poi Altamura è così, o tutto o niente. Altamura risponde o alla grande o per nulla, quindi penso che in pochi mesi forse raggiungeremo i livelli che tutti ci siamo professori. Io devo ringraziare, c'è un'attenzione alta rispetto a questo nuovo servizio, c'è un'attenzione da parte delle cittadine e dei cittadini anche a segnalare chi invece non ne vuole proprio sapere e continua a buttare i sacchetti per strada. I nostalgici, li chiamo io. La Tecno Service sta per concludere, anche se avevamo scritto nell'ultimo verbale che il tutto si concludeva entro il giovedì 12, cioè giovedì scorso. Nella realtà i cassonetti sono stati quasi tutti prelevati, ne manca giusto qualcuno e non è stata fatta ancora la completa distribuzione anche dei cassoni che vanno nelle strade extraurbane. D'altro canto però c'è un grande sforzo da parte della ditta, ripeto, forse l'assenza anche della politica non ha permesso di segnalare tutto un insieme di cose che andavano segnalate sin dall'inizio. Noi però, ecco, glielo devo far presente, il nostro telefono diventa spesso un centralino, quando ci sono problemi che interessano la città, chiama la popolazione qui in televisione, a volte proprio stacchiamo il telefono, non riusciamo a lavorare perché dobbiamo rispondere continuamente alle telefonate. Uno dei problemi che ci è stato segnalato, è una telefonata alla quale ho risposto personalmente, è che in alcune strade per esempio non è stata fatta la pulizia della sede stradale, i cittadini hanno chiesto agli operatori della Tecno Service come mai? E loro hanno detto guardate abbiamo difficoltà perché ci sono le auto parcheggiate e quindi non riusciamo, puliamo solo magari parte della strada e non lì. Però ho fatto mente locale, per esempio nelle grandi città, quella giornata al mese nella quale si deve provvedere alla pulizia del manto stradale, viene messo proprio un indicatore, un'indicazione agli automobilisti, guardate che domattina dalle 6 liberate i posti auto perché dobbiamo pulire la strada, altrimenti c'è la multa. Io penso che siccome viviamo tutti assieme in una città, nessuno può appropriarsi in modo arrogante il diritto di dire questo è mio, questo spazio, è uno spazio condiviso, quindi anche le regole devono essere. Quindi io vi chiedo di intervenire anche in questo modo. Io vi dico, vi racconto, noi potremmo usare tanti strumenti, dalle multe alle ordinanze, ai cartelli che indicano una sospensione per quanto riguarda i parcheggi. Qualche multa è stata fatta, vi voglio dire, le multe sono salatissime, da 600 a 3 mila euro, peraltro non entrano nemmeno nelle casse del comune di Altamuga, vengono versate interamente alla città metropolitana. Le ordinanze per spingere la raccolta comportano una spesa maggiore nei confronti del comune, quindi dei cittadini, perché la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è completamente a carico dei cittadini e delle cittadine. Avrei potuto fare un'ordinanza anche di divieto di smaltimento da parte dei cittadini, per esempio la domenica, per permettere una più facile raccolta. Ecco perché io mi appello alla responsabilità. Certamente se non usciamo fuori da quella che può essere chiamata l'emergenza, forse lo è, io ho spiegato anche al tavolo che non sono particolarmente amante delle due parole urgenza ed emergenza, perché poi quando ci sono quelle fasi tutto è permesso, proprio per evitare che tutto venga permesso, vorrei, diciamo, e la Tecnoservice sta rispondendo, bisogna prenderne atto perché sta facendo anche un lavoro difficile, pur avendo fatto degli errori di partenza. La comunicazione, l'informazione è stata evidentemente carente, c'è anche la distribuzione forse andava ripensata, però io voglio ricordare che Altamura è percorsa da 500 chilometri di strade interne e 560 chilometri di strade esterne, per cui è veramente difficile poter, però dobbiamo trovare un modo per far sì che Altamura sia pulita e che ci veda tutti con partecipi, perché ognuno ha la propria responsabilità rispetto a questa cosa. Io sto seguendo continuamente la sera esco per farmi un giro in macchina per Altamura per guardare, peraltro ho una rete che mi ha sostenuta, ma di amici, di elettori, di elettrici, perché anche a noi arrivano tante segnalazioni che mi mandano le foto, mi informano sulle strade che hanno ancora la presenza dei rifiuti, quelle che sono state pulite, dove è stato tolto il cassonetto, quindi c'è una compartecipazione. Quello che io non posso fare è telefonare alla Tecno Service e dire vai in quella zona, perché lì c'è un mio amico, oppure c'è una famiglia che me lo sta chiedendo anche se non è mia amica, perché andrei a interrompere un tragitto e quindi si allungherebbero i tempi di percorrenza, eccetera, eccetera. Per cui, peraltro, siccome si fa la doppia raccolta, quella dei cassonetti o con quella stradale e quella del porta a porta, chiaramente tutto viene rallentato perché le quantità di rifiuto devono essere contenute da quella quantità di mezzi che sono a disposizione dell'azienda. Sindaca, mi dispiace per i cittadini, ma preferirei chiudere il discorso rifiuti, perché avere un sindaco di rifiuti… Io veramente vi voglio tranquillizzare, ho anche parlato, ho anche incontrato l'ASL, che presto metterà a disposizione del Comune, ma della cittadinanza, un decalogo per quanto riguarda alcuni tipi di rifiuti, in maniera tale che non ci sono assolutamente lacune su come smaltire i rifiuti. E' un'altra cosa, prima di chiudere, che presso la Tecno Service, in via Gravina, angolo Ferri Rocco, c'è un CCR, per cui quando… E' l'unico centro comunale per il momento. Attualmente è l'unico centro. Il commissario ha provveduto a deliberare per gli altri due centri di raccolta che però vanno organizzati e quindi ci vuole qualche mese. Vabbè, di questo ne parleremo più in là. Adesso vogliamo proprio utilizzare gli ultimi minuti di questa trasmissione per parlare un po' anche di futuro amministrativo di questa città. So che ci sono stati alcuni incontri all'interno della coalizione che ha sostenuto la sua candidatura e si dovrebbe più o meno trovare una quadratura. Possiamo avere qualche nomenate prima sulla probabile composizione della Giunta. Io perché ho sentito diverse situazioni. C'è chi ha avuto più seggi che richiede un numero di assessori maggiore. C'è chi invece dice no, distribuiamo gli assessorati in modo uniforme su tutte le liste. Come stanno le cose? Le cose stanno diciamo bene nel senso che abbiamo mantenuto questa coalizione coesa, sono tutti contenti per cui veramente il lavoro è rallentato dalla mia assenza, devo dire la verità. Perché proprio perché sto facendo più di 12 ore al giorno al comune, non torno nemmeno a pranzo molto spesso. È dovuta proprio alla mia esigenza di tornare a casa la sera dopo aver fatto questo giro di ricognizione. Sì, abbiamo dato, io ho dato l'indicazione di voler accontentare tutti i partiti della coalizione con la presenza di un assessorato. D'altro canto dobbiamo partire, certamente potremmo fare delle modifiche in corso d'opera come è sempre stato possibile alla politica fare. Sono convinta che presto ci determiniamo. D'altro canto anche lì c'è il periodo che permette. La nomina ufficiale dei consiglieri avverrà a metà agosto all'incirca. Sì, intorno a metà agosto ci ha comunicato la Presidente della Commissione che sta esaminando i verbali. Stanno procedendo, tutti i giorni si incontrano per procedere alla verifica dei voti sui verbali e quindi ai conteggi. Dovrebbero finire per quella data, subito dopo la proclamazione. Poi vengono nominati i capigruppo. Ci sarà subito, il primo Consiglio Comunale deve essere celebrato entro 20 giorni sostanzialmente, non mi sto a raccontare tutta la procedura, per cui dovremmo essere in Consiglio per i primi di settembre. Sì, devo dire che chiaramente la vittoria è stata amalgamata ancora di più. Il problema delle liste e di chi ha partecipato a questa campagna elettorale è che davvero abbiamo tante belle persone e la scelta è difficile. Io non ti posso dare nomi in anteprima perché... Io ci ho provato. No, ma ti dico perché. Perché ho chiesto di forminirmi delle rose di nomi e io non le ho ancora viste, non mi sono stati ancora recapitati, sebbene so che già ci sono queste rose di nomi e quindi sceglieremo insieme perché io ritengo che quello che dobbiamo continuare a fare è scegliere e continuare a stare insieme. Certo, la scelta finale sarà mia, però io sono sempre aperta ai suggerimenti dei rappresentanti, dei consiglieri, eccetera. E devo dire, è emozionante che al di là di quello che mi hanno raccontato, ti vengono a dire in questa stanza, in questa trasmissione, io ritengo invece che, lo vedrete, come avevo già detto, non ci sono stati né patti fatti dentro, fuori dalle cose, eccetera, eccetera, e che invece c'è stata una scelta libera perché quando poi non ci sono più i candidati, gli stessi candidati delle altre parti si sentono liberi di poter scegliere diversamente i loro familiari e quant'altro. E quindi c'è stata una vittoria condivisa, io ho assaporato veramente questa simpatia, questa stima da parte dei concittadini e delle concittadine nei giorni successivi, è la sera stessa dell'elezione. Lo vedo ancora, questi giorni si fermano, mi fermano, e dà una responsabilità enorme, c'è un'aspettativa alta, ma io sono contenta perché sono partecipi, sono attenti, stanno guardando, io ricevo molti messaggi, non ho ancora, non riesco a rispondere a tutti perché è difficilissimo, perché sono tantissimi i messaggi, anche sulle problematiche varie. Quando appena posto la sera rispondo a qualcuno la mattina presto, non sto ricevendo i cittadini, ho incontrato gli uffici, ho incontrato il personale, ho incontrato tutte le forze dell'ordine, tutti i soggetti, gli enti rappresentativi, appena sarò un po' più strutturata aprirò anche i cittadini, stiamo vedendo come aprire l'ingresso centrale, perché dobbiamo riaprire, dobbiamo riaprire la casa comunale ai cittadini, alle cittadine. Questa è una bella cosa, perché vedere questo ingresso monumentale, beh, chiuso. Dobbiamo rispettare alcune norme di sicurezza, sentire la sovrintendenza. Ma credo che ci sia una porta con dei vetri antisfondamenti. Vabbè, ma se teniamo quella non abbiamo aperto. Poi ci sono i cannoni lì sotto. No, ma ormai c'è tutta una normativa che va rispettata, quindi ci stiamo già dando da fare. Allora Sindaca, noi sicuramente durante questo suo percorso amministrativo ci vedremo tante volte, come l'abbiamo già fatto in passato. Sappiamo che l'impegno istituzionale a questo punto la renderanno meno reperibile rispetto a quanto accadeva in passato, però ecco, ci farebbe veramente piacere portare il messaggio del primo cittadino attraverso le nostre trasmissioni televisive, attraverso i nostri telegiornali, perché alla fin fine questo è come un rubinetto dal quale il cittadino si informa. Ormai siamo arrivati a questa consapevolezza. Ecco sì, insomma, non potrebbe essere diversamente. I mezzi di comunicazione servono a questo e noi dobbiamo usarli perché è importante raggiungere tutti quanti, anche attraverso i canali televisivi. Va benissimo. E allora, ringraziamo la Sindaca Rosa Melodia per essere stata qui con noi al canale 2C e dopo il Tg. Ringraziamo voi per averci seguito. Andremo in onda fino alla fine di luglio con questa serie di puntate, l'edizione del 2018, poi ci fermeremo un po' di giorni il mese di agosto per riposarci, ma saremo sempre sul, come si dice, sul pezzo. Quando insomma c'è qualcosa, torniamo immediatamente al lavoro. E allora noi le auguriamo un buon lavoro. Grazie, buone ferie. Buone ferie anche se riesce magari a ritagliare. Un pizzico di invidia per le vostre ferie, però diciamo sono serena. Ma le nostre ferie significa, cioè, interrompere un po' la quotidianità, ma insomma siamo molto legati alla nostra città, difficilmente l'abbandoniamo per tanto tempo. Qualche giorno aiuta, diciamo dopo un anno. Anche per vedere cosa accade attorno a noi, perché insomma aprire la mente fa sempre bene. Grazie a voi per l'invito e un saluto a chi c'è. Va benissimo, è tutto amici, oggi siamo rivisti noi, domani vi vedrete con Arturo, solita ora, mentre io ritorno qui mercoledì. Alla prossima.